Ciao a tutti ragazzi Io sono Francesco E lei è Caterina, mia sorella Allora Vi volevamo avvisare che tra pochi giorni Faremo la live Faremo E giocheremo a tanti giochi Molti, direi Sto facendo una nuova postazione Da gaming Ora uso questa serie però Non lo si perché già ho la serie da gaming là Sotto l'albero La gare di Natale La Nintendo La Nintendo La Nintendo già io La iOS ci compreremo La Play ci compreremo Il computer abbiamo Quindi molte cose Niente Vi volevo le cuffie Abbiamo Poi la tastiera illuminante Allora Queste le cuffie Abbiamo poi la tastiera illuminante Molte cose Tappetino Per computer Tablet Abbiamo E poi Il mouse Il tappetino del mouse Poi abbiamo questa Cioè Le cose Chi non conosce Non conosce Allora Chi non la conosce Però se volete vedere Quello Ho questa Ho questa Switch Invece Caterina Ha la Nintendo Switch Lite Che c'è là sotto All'albero E a Natale Faremo il video Dove apriremo Tutti i regali Va bene Niente Volevo dire questo E ciao a tutti Ragazzi Ci vediamo A un altro video Ciao 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 Ciao